Ciao a tutti, se vuoi vincere dei corsi gratuiti con me, una possibilità è quella di iscriverti al mio canale YouTube. Se ti iscrivi al mio canale YouTube, a breve, ho un raggiungimento a quota 30.000 iscritti, ma stai crescendo molto velocemente, per cui ti conviene affrettare i tempi per iscriverti, avrai possibilità di vincere dei corsi gratuiti, perché farò l'estrazione di 10 corsi gratuiti con me e potrai scegliere se fare questi corsi secondo la modalità standard di persona oppure ho anche altri corsi via video e potrai scegliere la modalità che preferisci. Quindi a breve ci sarà questa estrazione che verrà fatta, cercherò un modo per farlo in modo trasparente e pubblico, insomma, in qualche modo, in modo tale che ognuno possa essere, partecipare in qualche modo a questa estrazione. E tra gli iscritti ci saranno appunto 10 persone che vinceranno. Quindi se vuoi partecipare a questa estrazione, iscriviti al mio canale YouTube e avrai questa possibilità. Per questo video è tutto e al prossimo. Ciao! Ciao! Ciao!